Sono Michele di iWest Distillery e ora parliamo di American Prairie Bourbon Whisky. L'American Prairie fu creato per supportare l'American Prairie Foundation. Stiamo creando il più grande parco naturale degli Stati Uniti che una volta finito sarà più dei tre più grandi parchi naturali attualmente esistenti. Noi doniamo il 10% dei profitti di questo whisky alla fondazione ed è il primo bourbon che produciamo. Noi siamo specializzati nei rai però quando decidiamo di lanciarci in un progetto cerchiamo di portarlo all'estremo. Quindi questo whisky è quasi 100% mais. È invecchiato come da disciplinare americano in botti di rovere bianco, nuovo, tostate. In realtà sono carbonizzate all'interno a un livello 4. Il livello 4 di carbonizzazione è uno dei più alti e viene anche detto alligator skin. Perché il carbone all'interno della botte prende l'aspetto delle scaglie della pelle di un alligatore. Ma perché bruciamo così tanto le nostre botti? Questa carbonizzazione ci aiuta a creare un filtro naturale all'interno della botte che estrae gli zuccheri presenti nel legno e ci aiuta anche a filtrare alcune impurità del whisky. Grazie a questo processo e alla qualità fantastica del distillato che utilizziamo abbiamo creato un prodotto morbidissimo, assolutamente super bevibile. Molto dolce nonostante l'assenza di zuccheri aggiunti. È molto morbido con un grandissimo finish di toffee, caramello, una leggera punta di cannella, mela cotta e una lievissima speziatura finale. Vi consiglio assolutamente di provare questo whisky, è un grandissimo prodotto per chi si sta giusto affacciando al mondo dei whisky americani grazie alla sua grande complessità, finish lungo ma morbidezza al palazzo.